Sant'Angelo in Bado, un paese in vetrina con shopping di sera, si è fatto breccia nel cuore di tutti gli abitanti del paese, ma non solo, anche di tutti i comuni limitrofi. Sì, diciamo che principalmente è un pubblico locale, perché comunque è anche una manifestazione di aggregazione sociale, però è anche vero che è apprezzato anche dai abitanti dei paesi limitrofi, che magari sono anche clienti già di noi stessi commercianti, quindi è un'occasione buona per fare una passeggiata sul fresco della sera in quest'estate un po' torrid. Quindi dai, anche questa qua è una quarta serata dedicata alla moda, quindi alla sfilata, dove alcuni dei nostri negozi espongono le loro anteprime, le loro novità per le nuove collezioni. Non si è tralasciato nulla neanche negli scorsi mercoledì, quindi si è affrontato tanto di musica, di arte. Sì, quest'anno abbiamo voluto dare, come sottotitolo alla serata dello shopping di sera, proprio un paese in vetrina, perché il nostro scopo non è mettersi in mostra a noi come commercianti o come magari può essere il bar o può essere il ristorante, ma proprio per mettere in vetrina ciò che può offrire Sant'Angelo. Infatti c'è oltre la partecipazione dei negozi, come ho detto, nella sfilata, nelle altre manifestazioni, pure con il servizio dei negozi aperti alla sera, i bar e i ristoranti che propongono ogni sera un menù particolare, libera scelta così in modo che anche gli stessi chef possono sbizzarrirsi e proporre ciò che gli riesce meglio. E' importante anche il fatto che quest'anno è stata data in vetrina anche le associazioni. Abbiamo diviso le sei serate con sei temi, di cui la prima era dedicata alla musica, sono stati presenti vari artisti di strada, un picco mini festival dei basker. La seconda serata è stata dedicata all'arte, dove erano presenti artisti locali ma anche dei paesi vicini. La terza serata è lo sport, dove rappresentano tutte le principali associazioni sportive di Sant'Angelo. Per tornare a questa quarta serata, che è la moda, come vi ho detto, c'è la sfilata. La quinta serata, che sarebbe il primo mercoledì d'agosto, verrà fatta una festa carnevale, perché verrà dato un po' un tema comune a tutti i ristoranti, tutti i bar, che si vestiranno seguendo un certo tema. In più ci sarà durante la stessa serata una piccola pasterella dei bambini, che potranno rimettere i vestiti che hanno voluto mettere per il carnevale, perché proprio viene dedicato anche uno spazio per ciò che riguarda i bambini, molta attenzione ai bambini. L'ultima serata invece abbiamo dedicato un tema un po' generico, che deve essere proprio una festa a conclusione di questo programma, di questo percorso, e gli anni 90, quindi ci saranno musiche proposte da DJ, musica anni 90 esclusivamente, musica anni 90, un raduno di auto e moto d'epoca esclusivamente anni 90, e quindi abbiamo creato un bel programmino per quest'estate.